E' una cosa che si dovrebbe far presto se è possibile che i signori si smuovano, ma qui vedo che non so come vanno le cose. Non si può più camminare con i bambini qua, qui non può neanche niente giocare. Hanno diverse richieste le nove famiglie residenti in una casa popolare in via Flaminia a Carrara di Fano, un'abitazione che il comune ha dato in gestione all'ERAP, tenendosi invece quella che riguarda il terreno circostante. Queste persone sono costrette a vivere in un giardino pieno di immondizia accumulata nel tempo, tra cui materiale di ogni genere e oggetti vari come materassi, frigoriferi, lavandini, tavoli, sedie e addirittura un'auto abbandonata in un angolo da anni. Qua fuori per i bambini, per noi e per tutto c'è un urgente bisogno di pulire. Noi abbiamo parlato con l'amministratore, abbiamo chiesto i bidoni, non sono ancora arrivati, abbiamo parlato con il comune, come sappiamo tutti dicono sì ci stiamo adoperando, ci stiamo adoperando, però in realtà sono ormai due mesi e mezzo che abitiamo qua con quello che vedete qua attorno. Le utilizzate qui queste strutture? Non tutto in casa purtroppo c'entra, quindi non so, una scala, una bicicletta, un motorino, le abbiamo messi qua, però sarebbe opportuno che qualcuno le ristrutturasse per poterle utilizzare in maniera normale, ecco questo, in maniera in sicurezza, non so, per esempio abbiamo le lavatrici nelle camere da letto alcuni di noi, alcuni non sono riusciti a montarle, però se si facesse anche un piccolo locale lavanderia questo si potrebbe evitare, ecco. Ma nel frattempo la sporcizia presente in questi piccoli stabili attira degli animali indesiderati. Qui è un casino, come si vede, tra topetti, toponi e diciamo cos'altro, è difficile capire le finestre in poche parole, capito? Com'è? Però il fatto è che qui devono sgombrare, non è possibile una roba qui. D'altra parte la segretaria del condominio assicura che il comune di Fanno si sta adoperando per risolvere la situazione. Io so che il comune si sta impegnando a sgombrare qua, purtroppo le cose burocratiche vanno lente, però so che si sta mettendo tutto l'impegno possibile e immaginabile. Intanto continua lo stato di malessere per queste famiglie e oltre ai disagi già citati, sono preoccupati per un pozzo situato dietro l'edificio, molto pericoloso per i più piccoli, così come ci racconta il papà di una bambina disabile. Io ho un bambino disabile cieco, lei fa un giro con la mano, da solo, lasciare anche ogni tanto da solo, lei va vicino, se mi va dentro un bambino a me, chi mi dà garanzia per questo apposto qua?